Ciao da Francesco di Portierecalcio.it In questo video ti presento il Next Level Super Grip HN La versione per l'inizio del 2019 del più conosciuto dei guanti Hullsport con lattice Super Grip Più conosciuto e anche come sempre o quasi sempre l'unico venduto su Portierecalcio.it Questo perché per nostra scelta commerciale preferiamo proporre un modello con lattice Super Grip E caratteristiche tecniche di alto profilo senza necessariamente spendere una cifra troppo alta Da un punto di vista strutturale non c'è nessuna differenza rispetto al vecchio Speed Up Now e al AeroRed L'ultima versione è quella utilizzata anche durante i mondiali del 2018 Quindi abbiamo sempre il lattice Super Grip, uno dei migliori lattici professionali in commercio attualmente E' un lattice che noi amiamo tantissimo, che ci è piaciuto sin da quando è stato presentato alcuni anni fa E che continuiamo a consigliare come mescola di altissima qualità per chi chiede un guanto con ottimo grip e buona durata Rispetto agli altri modelli come detto non c'è nessuna differenza, vediamo che le caratteristiche sono le stesse Quindi abbiamo una lavorazione parzialmente negativa sulle dita Quindi abbiamo l'indice del mignolo con struttura ibrida e invece il medial anulare con cucitura negativa Vediamo la struttura del dorso interamente in neoprene, neoprene lattice con silicone sul logo Hulsport realizzato in questo materiale La qualità del guanto è ottima, vediamo c'è sempre possibilità di personalizzare Anche se il campo per la personalizzazione non è esattamente il massimo Forse l'unico appunto reale che si può fare a questo guanto resta quello del cinturino Si è voluto fare qualcosa di più moderno graficamente ma se dobbiamo utilizzare il classico cinturino con lattice e tessuto Preferirei che ci fosse qualcosa di più classico piuttosto che provare con forme che spesso non sono molto confortevoli Quindi Next Level Super Grip HN rimane altamente consigliato come già accaduto con le versioni precedenti Che ripeto non cambiano assolutamente nelle caratteristiche tecniche che restano in mutate Si tratta esclusivamente di una variante parziale perché la colorazione del lattice è lo stesso di colore del neoprene Resta comunque uno dei guanti maggiormente consigliati da me Francesco di Portiere Calcio e anche da Gaspari Un'ultima cosa se il video ti è piaciuto lascia un like Se hai delle domande da fare inerenti al video scrivile nei commenti E ti ricordo fondamentale se devi acquistare i guanti fallo su portierecalcio.it Ciao